Su delega della DDA di Catania, personale della squadra mobile in collaborazione con la squadra mobile di Ravenna, ha dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere emessa il 10 luglio 2014 dalla GIP del Tribunale di Catania e ha tratto in arresto Francesco Condorelli classe 1972 pregiudicato perché è ritenuto responsabile in concorso con un'altra persona, tentata estorsione pluria gravata di stampo mafioso. Nei primi giorni del mese di novembre dello scorso anno, infatti, in una pizzeria del Centro Storico di Catania è stata ritrovata una lettera con cui i gnoti richiedevano di preparare la somma di 60.000 euro. In seguito ad un'indagine mirata personale della sezione Reati contro il patrimonio squadra antiracket, con il coordinamento della Procura Distrettuale della Repubblica, il 22 novembre 2013 ha notato il complice nella pizzeria e avanzare una richiesta estorsiva generale già anticipata con la lettera anonima. Il personale operante, dopo aver monitorato la scena, ha quindi bloccato all'uscita del locale l'uomo che è stato condotto presso gli uffici della mobile. L'individuo, identificato e già pregiudicato, è stato tratto in arresto in flagranza di reato di tentata estorsione con l'aggravante di modalità tipicamente mafiose della richiesta del pizzo. Successivamente si è giunti anche all'identificazione di Francesco Condorelli, quale soggetto che aveva recapitato la lettera estorsiva ed il quale, in concorso con l'altra persona, aveva già agito avvalendosi delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale, al fine di agevolare l'associazione mafiosa Santa Paola Ercolano. In particolare è stato riscontrato che l'importo richiesto, 60 mila euro, poteva sottendere la famiglia mafiosa di riferimento degli esattori del pizzo. Le indagini hanno evidenziato come l'episodio fosse maturato nell'ambito della locale articolazione della famiglia Santa Paola. La procura distrettuale sulla scorta degli elementi raccolti ha avanzato dunque richiesta di misura cautelare che è stata emessa dal GIP proprio nella giornata del 10 luglio scorso. D'attività info-investigativa è emerso che Condorelli non si trovava nella cittadinanza. di Catania essendosi trasferito temporaneamente nella città di Ravenna dove è stato quindi catturato in collaborazione con la squadra mobile del capoluogo romagnolo.